Flannery O'Connor diceva che lo scrittore di narrativa deve rendersi conto che non è possibile suscitare la compassione con la compassione, l'emozione con l'emozione o i pensieri con i pensieri. A tutte queste cose bisogna dar corpo, creare un mondo dotato di peso e di spessore. In questo corso impareremo a riconoscere le emozioni, a dar loro peso e forma, evitando cliché e stereotipi per infonderle nei racconti che scriveremo insieme. Io sono Emiliano Amato e vi aspetto a Tu chiamale se vuoi emozioni, il nuovo corso della Scuola Ode.